Amici e amiche carissime, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato al peccato originale. Questa ipotesi teologica che ci accompagna ormai da diverso tempo e che ora stiamo cercando di verificare, di approfondire, soprattutto alla luce delle rivelazioni fatte da Nostro Signore Maria Valtorta. Abbiamo già visto diverse cose perché abbiamo già dedicato ben quattro puntate agli iscritti di Maria Valtorta, ma ce ne vorrebbero davvero moltissime. Ci sarà una quinta, che è quella di oggi, e presumibilmente ci vorrà anche una sesta. E pur con questo tagliando ampiamente, perché se si potrebbero fare due cicli di Catechesi apposta, se uno volesse andare a vedere tutte le informazioni e tutto ciò che Gesù ha spiegato in questi iscritti per quanto riguarda il peccato originale. Dobbiamo necessariamente, per quello che interessa a noi, quindi focalizzare e cercare di ricostruire quel che è accaduto in sede di peccato originale, quindi non poi tutte quante anche gli approfondimenti teologici, significati che ci porterebbero molto molto lontano. Dobbiamo però andare a vedere insieme anche l'ampia sezione, ovviamente ne vedremo una parte, dove si tratta di questo argomento nell'ambito delle lezioni sull'Epistola ai Romani. Sapete che le lezioni sull'Epistola ai Romani è il primo e purtroppo l'unico di una serie di commenti ai libri del Nuovo Testamento che Gesù aveva lasciato come ulteriore corollario di tutta l'opera. E era sua intenzione cominciare dalla Lettera ai Romani, che per chi conosce un pochino la Bibbia, dopo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, la Lettera ai Romani è il primo libro appartenente al Nuovo Testamento, e dopo ci stanno la prima e la seconda Corinzi per finire poi con l'Apocalisse, cioè tutte le epistolari a Paolino, quattordici lettere, le lettere cattoliche, cioè le tre lettere di San Giovanni, le due lettere di San Pietro, la lettera di Giacomo e la lettera di Giugla e poi il libro dell'Apocalisse. Nostro Signore, questo per chi non lo sapesse, aveva intenzione di commentarle tutte, compresa l'Apocalisse. Immaginiamoci noi il commento del libro dell'Apocalisse fatto da Nostro Signore. Non lo ha fatto più. È un particolare diciamo abbastanza triste di questa vicenda. Non lo ha fatto più perché a causa delle disobbedienze, soprattutto fatte da chi doveva curare la corretta divulgazione di questi scritti senza andare a creare problemi come di fatto poi sono accaduti con le autorità ecclesiastiche, ha detto che se fate così, quindi che non fate quello che vi dico io e quindi non mi blindate questi scritti in modo tale di non metterli in mezzo alla strada, fine delle comunicazioni, fine della trasmissione. Fine della trasmissione. Questo ci fa anche capire che bisogna fare attenzione con le grazie di Dio, perché quando le grazie di Dio si usano malamente o si sprecano, il nostro Signore non ci mette niente a dire va bene, le stai sprecando, in continuazione adesso chiudiamo il rubinetto e vanno da qualche altra parte. Chissà se a Maria Valtorta in privato, dato che ella terminò la sua vita in uno stato di praticamente quasi totale solitudine, che all'esterno appariva come una sorta di inebbedimento, ma anche quello fu una cosa che gli disse il nostro Signore, disse ti smemorerò del mondo nel tuo amore, perché erano troppe le sofferenze e i dispiaceri che questa poveraccia stava soffrendo proprio a causa del vedere tanta fatica vanificata purtroppo dalle umane volontà che la stavano malgestendo, dice bene facciamo così, le comunicazioni sono interrotte e a te dopo che hai sofferto un altro po', prima che ti porto dall'altra parte ti faccio fare un anticamera in questo mondo, quindi ti smemoro così tu non ci pensi a queste cose qui e ti prepari all'incontro con me. Chi lo sa dentro queste vicende private tra Gesù e Maria Valtorta, quante altre cose potrebbe aver detto a lei personalmente, ma noi non le abbiamo, quindi accontentiamoci di quello che abbiamo. però ci tenevo a dire questa cosa, anche se esce un po' fuori dal nostro argomento, per sensibilizzare chi ascolta anche queste catechesi, attenzione all'uso che noi facciamo delle grazie di Dio, perché con le grazie di Dio non si gioca e non si scherza. Se sono mal amministrate, c'è il pericolo che il nostro Signore chiude i rubinetti e come si dice a Roma, buonanotte. Ora, chi conosce le lettere romani sa che nelle lettere romani c'è un'ampia sezione dove San Paolo, attraverso il discorso su Adamo e su Cristo Nuovo Adamo, proprio sviluppa la dottrina cattolica del peccato originale, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti in Adamo hanno peccato. Questa è proprio la quintessenza della dottrina cattolica sul peccato originale. E quindi come a causa di quel primo Adamo il peccato è entrato nel mondo e con il solo morte, così a causa del nuovo Adamo entra nel mondo la giustificazione e la possibilità di riavere la vita della grazia sulla terra e la vita eterna in cielo. Questo proprio in due parole quello che l'Apostolo scrive in termini ovviamente poi da lui approfonditi, anche in chiave teologica. Ovviamente questo capitolo è commentato dallo Spirito Santo e c'è una amplissima sezione del 28 febbraio del 1948 che è appunto un amplissimo commento ai primi 13 versetti del capitolo 7 della lettera ai romani. Noi leggeremo alcuni stralci, quindi non tutto gli stralci che ho ritenuto diciamo così maggiormente rilevanti per la completezza del tema che stiamo trattando. Non ci sarà niente di nuovo rispetto a quello che già abbiamo imparato, però alcune piccole sottolineature e evidenziazioni che possono aiutarci a completare il quadro. Dopodiché bisognerà dare un'occhiata all'esegesi di Gesù per quanto riguarda il capitolo 6 del libro della Genesi, quindi la corruzione dell'umanità, questo sia per smontare l'ipotesi evoluzionistica, sia anche perché poi quando dovremo paragonare gli scritti di Maria Valtorta con quelli del sacerdote di cui ormai stiamo parlando di altre circostanze che è Don Guido Bortoluzzi, bisognerà vedere la seria differenza, perché proprio in forza di quell'interpretazione che vengono accostati gli scritti di Don Guido a quelli di Maria Valtorta, ma vedremo che non è affatto così. Quindi ci sono delle somiglianze, ma anche delle grandissime differenze, quindi sarà necessario. E poi fare un pochino una conclusione, quindi dire, allora, in Maria Valtorta il peccato originale è questo, 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 questo e questo. Partiamo oggi con il viaggio nella lettera ai Romani. Prima sezione da leggere. Sta parlando dei doni che avevano gli uomini nello stato di natura integra, tra cui il dono della scienza. Comincio la citazione. Questo dono di scienza, così come regolava l'amore della creatura verso il creatore, altrettanto regolava l'amore della creatura verso la creatura. Verso la compagna e sua simile, per prima cosa, avendo per essa, attenzione, un amore senza disordine di libidine, l'amore ardente degli innocenti che solo i lussuriosi e i corrotti credono incapaci di amare. È chiaro quello che ci interessa, no? Prima del peccato originale c'è un amore senza disordine di libidine. Non c'è bisogno che spieghi cosa sia la libido, perché penso che la sappiamo tutti quanti, no? E attenzione, era un amore ardente degli innocenti. Io ho già fatto riferimento, nelle puntate precedenti, all'amore ardente che i mistici e le mistiche hanno avuto verso il nostro Signore e verso la Madonna. Quelli sono fuochi d'amore, più grandi di quelli che si hanno negli amori umani e ancora di più negli amplessi libidinosi. Ma non hanno niente di carnale in questo senso. Anche se possono essere molto fisici. Fatto riferimento già a sante... Voi sapete che ci sono stati dei santi sposi della Madonna, che la Madonna li ha allattati al seno? Ci sono cinque casi nella storia della Chiesa, cinque. Il beato Arano della Rupe, nel libro Il Saltero di Maria, dice che quando la Madonna l'ha sposato a sé, gli ha messo un anello al dito fatto con i suoi capelli e l'ha baciato. Non specifica, ma l'ha baciato, lo dice lui. E dopodiché l'ha allattato al seno. Non metaforicamente. San Bernardo è stato il primo caso della storia della Chiesa, di allattamento mariano al seno. Poi c'è stato San Domenico da Guzman. Poi il beato Arano della Rupe. Poi ha testato certamente San Giovanni Eud. San Luigi Maria Monfort non risulta dalle fonti, ma lo ritengo molto verosimile. Sono cose molto concrete. quante sante hanno, per esempio, sono state nutrite dal sangue di Gesù attaccate al costato. La più famosa è Santa Margherita Maria Lacocca, ma anche Luisa Piccarreta. Tra le tante grazie ha ricevuto anche questa. oltre ai suoi contatti molto fisici con il Signore. Basta leggere un pochino di vite di santi e di sante. C'è un amore senza disordine di libidine, un amore puro, un amore ardente. Io sto pensando di fare un appendice a questo ciclo di catechesi, per esempio, per capire proprio questo tema con gli scritti, con il libro di Tenera Amata. Perché Tenera Amata, per chi non lo conosce, insomma, al di là del tempo e dello spazio, adesso non mi ricordo, l'autore comunque è un astrofisico sudamericano, lei lì rivela e descrive a quest'uomo la gloria accidentale dei beati, cioè i modi con cui i beati si amano in paradiso, tra di loro. E cioè, sono cose per noi sconvolgenti, cioè Dio che avrebbe pensato una serie indefinita di amori tra le creature che in questo mondo non si possono realizzare a causa della condizione in cui ci troviamo, ma saranno realizzate tutte quante nell'altro mondo. E si tratta di contatti di amore anche qui, molto fisici, come sappiamo. Gesù ci ha detto che in paradiso non si prende moglie e marito, quindi la libidine non c'entra niente. Ma ci sono i contatti, ci sono gli abbracci, ci sono le compenetrazioni, ci sono i baci compenetrativi tra i beati. Se il Signore mi conferma questa cosa qui, di fare quest'altro appendice, lo vedremo. Così ci ricorderemo che significa l'amore senza libidine. Quello che dovevano vivere i nostri progenitori, e quindi quello che mantiene integra la virginità, che sarebbe stata una cosa meravigliosa. Per tutti noi. Ho già detto la volta scorsa, pensate a quante inibizioni incontriamo noi oggi, no? Cioè, tra un uomo e una donna, purtroppo, un amore, come dire, è bello, è sicuro, è puro in questa vita. È un po' difficile, non impossibile, ma bisogna stare molto attenti. Sapete come diceva Santa Teresa, no? Sì, l'amicizia spirituale tra un uomo e una donna? Sì, sì, benissimo. Purché ci sia di mezzo un metro di cemento armato, come c'erano i suoi monasteri, insomma, no? Lei era grande amica di San Giovanni della Croce, ma con un metro di muro e di grate, a doppia mandata, quindi che non c'entrava manco una mano dentro. C'erano due di fila di grate, nei monasteri di stetto osservanza teresiani, no? L'abbiamo persa questa cosa. L'abbiamo persa tutti. Sarebbe stata una cosa meravigliosa. E questo, attenzione, perché ogni tanto da fare qualche richiamo, conferma pienamente la dottrina patristica quasi universale che lo stato pensato da Dio per l'uomo era lo stato di verginità. Attenzione, che verginità però non significa se non ci fosse stato il peccato originale, la verginità così come la viviamo oggi. Cioè, io che sono un vergine consacrato, non ho contatti con nessuno, non posso averli e non devo averli. Ma perché però? Perché la mia verginità è vissuta nello stato di natura lapsa. Io non posso. Cioè, capite? Non posso. Perché nessuno mi assicura che la mia concupiscenza da un momento all'altro non si svegli, né che chi fosse un eventuale destinatario di effusione affettive le possa prendere, come dire, in senso buono, senza andare ad altro. Qui non è più possibile questa cosa. Ecco perché bisogna stare attenti, le norme ascetiche e tutte quante le attenzioni. Riprendo la lettura, se no chiacchierò sempre io, o cecità prodotta dai fermenti della corruzione. Gli innocenti, i casti, sanno amare, veramente amare. Il contrario di quello che pensa il mondo oggi, no? Questo è vero anche adesso, eh? Che gli innocenti, i casti, sanno amare, veramente amare. Amare i tre ordini che sono nell'uomo e quei tre ordini che sono nell'uomo. Ma iniziando da più alto e andando al più basso, quello naturale, quella tenerezza virginale che è nel più ardente amore materno e nel più ardente amore filiale. Ossia di quei due soli amori che sono senza attrazione sensuale. Amore d'anima, amore di creatura figlio per il Dio Tabernacolo che lo ha portato, amore di creatura madre per la via testimonianza della sua qualità di procreatrice. Gloria della donna che per le penne il sacrificio della maternità si eleva da femmina a cooperatrice di Dio ottenendo un uomo con l'aiuto di Dio. Questo è il primo stralcio. Secondo stralcio, si salta soltanto un piccolo passaggio, no? Adamo ed Eva non giunsero a questo amore perché prima ancora che l'osso delle ossa di Adamo è la carne della sua carne per la quale l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola, prima ancora che gli fiorisse un figlio, attenzione, così come da pianta baciata dal sole e non da altri tocca, nascono fiori e frutta il disordine con la D maiuscola aveva corrotto del suo veleno il santo amore dei progenitori che vollero conoscere più di quanto era giusto che conoscessero vollero conoscere più di quanto era giusto e sufficiente che conoscessero l'albero della conoscenza del bene e del male a cui Eva si è recata cos'era conoscere più di quanto fossero giusto che conoscessero conoscere anche il male e in particolare la scienza a cui Eva fu iniziata fu proprio quella della riproduzione sessuata guardando il mondo animale capendo che quella era una cosa possibile per gli esseri umani e desiderando farla e poi facendola dopo aver conosciuto il piacere sessuale questo è quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti terzo passaggio il peccato rese l'uomo ottuso nell'intelligenza del discernere il bene e il male e nell'integrità come un fumo aveva offuscato la verità conosciuta come un frastuono aveva coperto il suono delle parole divine udite nel fresco della sera del belleden attenzione ora decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole attenzione decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole ricordiamo le esegesi patristiche sul prologo del Vangelo di Giovanni quando San Giovanni scrive quelli che credono nel suo nome i quali non da sangui non da sangue da sangui ricordate sangui né da volere di carne né da volere di uomo ma da Dio sono stati generati cioè oggi noi nasciamo come animali ragionevoli perché nasciamo da sangui ricordate cosa si intendeva per sangui anticamente il sangue bianco e il sangue rosso cioè i due principi della riproduzione maschile e femminile quel modo di concepire fa nascere animali ragionevoli non più figli di Dio per diventare figli di Dio adesso ci vuole un sacramento perché altrimenti tu rimani un animale ragionevole c'è una degradazione quindi c'è una scalata in basso della natura umana a causa di questa cosa decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole l'uomo sentiva per istinto che uccidere doveva essere male che corrompersi in libidini o scene doveva essere male ma non sapeva distinguere fino a che punto era l'amare l'uccidere e quali le lussurie più abbiette a Dio qui spiega quindi dopo per aiutare l'uomo nell'iscernimento dopo il diluvio venne il decalogo comunque tutto questo è un discorso molto molto lungo su questo argomento noi adesso dobbiamo andare a vedere un altro punto ancora la sezione in cui il Signore afferma la creazione diretta sia del creato che dell'uomo contro l'evoluzione questo poi sarà ripreso nell'esegesi del sesto capitolo della Genesi che vedremo se diventare la prossima volta non ci fu autogenesi dell'universo e non ci fu evoluzione ma ci fu la creazione voluta dal creatore la ragione di cui sarei tanto orgogliosi dovrebbe farvi persuasi che dal nulla non si forma la cosa iniziale e dalla cosa unica ed iniziale non può avvenire il tutto solo Dio può ordinare il caos e popolarlo delle innumerevoli creature che formano il creato e questo potentissimo creatore non ha avuto limitazione nel suo creare che fu molteplice né nel creare creature già perfette ognuna perfetta secondo il fine per il quale è stata creata è stolto pensare che Dio abbia creato volendo darsi un creato cose informi attendendo di essere da esse glorificato quando le singole creature e tutte le creature avessero raggiunto con successiva evoluzione la perfezione della loro natura perché fossero fatte al fine naturali naturale o sopranaturale per il quale sono state create e se questa verità è sicura per le creature inferiori con un fine naturale limitato nel tempo ancora più è certa per l'uomo creato per un fine sopranaturale con destino immortale di gloria celeste può pensarsi un paradiso alle cui legioni di santi alleluianti intorno al trono di Dio siano il prodotto ultimo di una lunga evoluzione di belve le legioni dei santi attenzione anche qui ricordiamo questo per quando poi affronteremo l'argomento Don Guido Bortoruzzi attenzione a quello che aggiunge dopo l'uomo attuale non è il risultato di un'evoluzione ascendentale ma il doloroso risultato di un'evoluzione discendentale in quanto la colpa di Adamo ha per sempre leso la perfezione fisico morale spirituale dell'uomo originale attenzione per sempre non si torna indietro tanto la resa che neppure la passione di Gesù pur restituendo la vita della grazia a tutti i battezzati può annullare i residui della colpa le cicatrici della gran ferita ossia quei fomiti che sono la rovina di coloro che non amano o poco amano Dio e il tormento dei giusti che vorrebbero non avere neppure il pensiero più fugace attirato dalle voci dei fomiti e che lottano per tutta la vita l'eroica battaglia pur di rimanere fedele al Signore si ricordino tanto per fare due esempi eccellenti i casi di San Benedetto e di San Francesco che per sfuggire ai bollenti spiriti accesisi in loro senza cooperazione da parte loro perché sono schegge impazzite queste queste pulsioni adesso in noi si sono buttati dentro un bel roveto poi miracolosamente trasformatesi in roseto chi vuole andare a vedere uno sta a Subbiaco e uno sta a Sisi alla Porziuncola quindi questo passaggio è importante per dire che l'uomo è decaduto quindi secondo il libro della Genesi e secondo le rivelazioni valtortiane attenzione noi abbiamo i due primi tutti e due non uno solo tutti e due creati in una condizione di natura integra è perfetta col peccato originale avviene una decadenza in basso del genere umano attenzione che però rimane uomo animale ragionevole l'ulteriore degradazione quella che sarà poi posta a termine solo con il diluvio non avviene dal ceppo Adamo e Eva ma avviene come vedremo a causa della discendenza di Caino solo di Caino di modo tale che c'è una discendenza pulita tra virgolette o meglio che rimane animale ragionevole di Adamo e Eva che è quella che discende da Seth e c'è invece una caduta vortiginosa verso forme di ibridazione con le bestie come vedremo la prossima volta che è la discendenza di Caino e purtroppo a un certo punto l'inizio ha come dire il tentativo di degenerare completamente il genere umano quindi le unioni tra la discendenza pulita e quella non pulita miste ecco perché a un certo punto il nostro signore per preservare la razza umana e non farla degradare tutta quanta a livello di bestie o di mezze bestie quindi prive dell'anima razionale manda il diluvio perché deve fare piazza pulita di tutto meno che di Noè e dei suoi discendenti che avevano conservato la linea umana animale ragionevole sì perché quello ormai dopo Adamo e Eva non si scampa ma non scimmione o mezza scimmia o ominide è un'altra cosa vado di nuovo un pochino avanti e alla sezione dove proprio anche nella lettera dei romani si spiega il perché del diluvio nel diluvio perirono sto citando i rami corrotti dell'umanità brancolante nelle tenebre conseguenti alla caduta nelle quali e solo per i pochi giusti come attraverso a nebbie pesanti giungeva ancora un solo raggio della perduta stella il ricordo di Dio e della sua promessa perciò distrutti i mostri l'umanità fu conservata e moltiplicata nuovamente dalla stirpe di Noè giudicata giusta da Dio venne perciò resa alla natura prima del primo uomo fatta sempre di materia e spirito è rimasta tale anche dopo che la colpa aveva spogliato lo spirito della grazia divina e della sua innocenza qui lo devo fare per forza riferimento a Don Guido Bortoluzzi perché secondo Don Guido Bortoluzzi il peccato originale fu commesso dal solo Adamo attraverso un'unione bestiale con una scimmia con un ancestre attenzione questo avrebbe comportato l'immediata ibridazione del genere umano con Cai non nato da questa unione non dall'unione con Eva e con questo il genere umano sarebbe irreversibilmente ibridato in questo modo non è così il peccato originale spoglia l'uomo della grazia e dell'innocenza certamente gli fa fare una scalata in basso nel grado di essere nel senso che introduce nel genere umano un qualche cosa cioè la libido che non avrebbe dovuto esserci ma l'anima rimane l'uomo rimane uomo un ibrido l'anima ce l'ha? punto interrogativo non si sa ed è più no che sì quindi ci sta una grande differenza attenzione altro punto ancora e qui è un'altra cosa che di nuovo contraddice quello che vedremo poi scritto nei testi di questo sacerdote quando l'uomo si svegliò qui si parla della creazione dell'uomo e della donna e vide la donna sua simile sentì che la sua felicità di creatura era completa avendo il tutto umano e avendo il tutto soprumano essendosi l'amore dato l'amore dell'uomo unica limitazione messa da Dio all'immenso possedere dell'uomo era il divieto di cogliere i frutti dell'albero della scienza del bene e del male raccolto inutile ingiustificato sarebbe stato questo avendo l'uomo già quella scienza che gli era necessaria e una misura superiore a quella stabilita da Dio non poteva che causare danno leggo un altro passaggio sempre qui la misura stabilita da Dio della conoscenza no la misura data da Dio è sempre giusta chi vuole più di quanto Dio gli ha dato questo vale anche per noi è concupiscente imprudente irriverente offende l'amore chi prende abusivamente è un ladro e un violento offende l'amore chi vuole agire indipendentemente da ogni ossequio alla legge soprannaturale e naturale è un ribelle offende l'amore davanti al comando divino non andare a cogliere il frutto della conoscenza dell'albero del bene e del male loro non sapevano che frutto c'era non lo sapevano non sapevano che lì ci sarebbe stato il diavolo e che il frutto di quella conoscenza sarebbe stato un conoscere una cosa che non avrebbero dovuto conoscere cioè la violazione dei segreti della vita che Dio non voleva che l'uomo conoscesse davanti al comando divino i progenitori dovevano obbedire senza porsi dei perché vedete il perché qui se mi posso collegare l'ultimo capitolo del libro ottavo del libro di cielo di Luisa Piccarreta andate a leggere la storia del perché i perché che si chiedono a Dio non si chiedono perché mai senza porsi dei perché che sono sempre il naufragio dell'amore della fede e della speranza quando Dio ordina o agisce si deve obbedire e fare la sua volontà senza chiedere perché ordina o agisce in quel dato modo sapeste quante volte mi trovo sia nel nel dialogare con le persone in confessione nel rispondere alle domande o nel rispondere alle mail perché 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 dico calma con tutti i canti sì perché 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 la curiosità a Dio non piace non si fanno le domande a Dio di curiosità né si va ad indagare su cose che in questa vita Dio ce le ha occultate le sapremo forse nell'altra vita non qui ogni sua azione buona anche se non sembra tale alla creatura limitata nel suo sapere e va a quell'albero non ci do la roba sta lì lascialo sta lì perché la prova era proprio questa non andarci e invece c'è andata è tutto cominciato da lì perché attenzione il peccato originale come vedremo in Maria Valtorta l'abbiamo già visto è un fatto complesso l'ultimo atto è l'atto sessuale non il primo il primo è la trasgressione poi c'è la superbia l'abbiamo visto la volta scorsa c'è la spiegata una madonna poi c'è l'avarizia la gola e poi la lussuria è l'ultimo anello della catena le discussioni prosegue il testo saltato un pochino presuppongono un autogiudizio e una critica all'ordine o azione altrui giudicare è difficile cosa e raramente il giudizio è giusto ma non lo è mai quando giudica inutile o errato o ingiusto un ordine divino l'uomo doveva ubbidire la prova di questa sua capacità che è misura di amore e di rispetto era nel modo con cui avrebbe o non avrebbe saputo ubbidire Dio l'ha messo alla prova l'uomo come mette alla prova tutti quanti Dio ci mette alla prova tante volte ho detto tutte le polemiche sulla nuova traduzione italiana del Padre Nostro che è una traduzione dichiaratamente l'hanno detto alla Cie stessa pastorale il testo greco l'ho detto altre volte non si tratta del fatto che Dio ma che è evidente questo qui questo lo scrive anche San Giacomo nella sua rettice nessuno dica che Dio lo tenta al male perché Dio al male non ci tenta nessuno noi siamo tentari dalla nostra concupiscenza Dio non tenta al male ma Dio ci mette alla prova per vedere se liberamente scegliamo di essere fedeli al bene è chiaro che se non superi la prova cadi nel male come per Adama e per Eva perché Abramo non è stato messo alla prova e che prova amici miei e che prova anche la Madonna è stata messa alla prova sotto certi punti di vista perché quando è stato inviato l'arcangelo Gabriele la Madonna ha dovuto operare un discernimento da dove viene questa creatura da Dio o non da Dio gli do retta o non gli do retta mi fido o non mi fido mi affido o non mi affido a lei ha superato la prova Dio ci mette la prova e come? perché Dio vuole che noi stiamo dalla sua parte per una scelta libera consapevole e volontaria avendo la possibilità di fare altro perché se non avessimo la possibilità di fare altro non saremmo realmente liberi se non possiamo fare altro e nella libertà dell'uomo che non è perfetta con quella divina per forza come c'era in quella dell'angelo ci deve essere la possibilità di dire di no per forza e così è stato per i primi ancora Dio sapeva che a quell'albero sarebbe andato Satana per tentare Dio sa tutto il malvagio frutto era la parola di Satana gustata da Eva capito? qual era questo frutto? il pomo? nessun pomo la parola di Satana gustata da Eva il pericolo di accostare la pianta era nella disubbedienza capite che dice il pericolo nell'accostare la pianta era nella disubbedienza perché quella pianta ci doveva andare alla scienza pura che Dio aveva dato Satana inoculò la sua malizia impura che presto fermentò anche nella carne ma prima Satana corruppe lo spirito facendolo ribelle poscia l'intelletto facendolo astuto o ben conobbero dopo la scienza del bene e del male perché tutto persino la nuova vista per cui conobbero di essere nudi li avvertite la perdita della grazia che li aveva fatti beati nella loro intelligente innocenza sino a quell'ora e perciò della perdita della vita soprannaturale nudi non tanto di vesti quanto dei doni di Dio guardate che bello anche qui chi conosce gli iscritti di Luisa Piccarreta dice che Adamo ed Eva non erano nudi come siamo nudi noi erano vestiti di vesti spirituali della luce della divina volontà hanno perso quella quel peccato originale e si sono accorti che non ce l'avevano più quella veste di luce che ci hanno che ci hanno i beati Gesù risorto tra poco è Pasqua anche se dobbiamo passare attraverso il triduo di che cosa era vestito di luce certo che poteva anche il paradiso può fare qualunque cosa può fare tutte le tante le vesti che vuoi si dice che i beati in paradiso hanno queste vesti bianche avorio con la fascia cinta al petto un po' come c'era Gesù nell'immagine della Dina Misericordia ma questo è un di più la veste dei beati è veste di luce nudi non tanto di vesti quanto dei doni di Dio nudati alla grazia l'inno acatistos che dice alla Madonna ave tu veste ai nudati di grazia bellissima espressione poveri per aver voluto essere come Dio morti per aver temuto attenzione di morire con la loro specie se non avessero agito direttamente capito cosa sta dicendo se non facciamo questa cosa noi siamo in due gli animali si riproducono così giusto e se non lo facciamo pure noi e chi ce la darà una discendenza a noi qui sta introducendo un altro attenzione un altro sottile argomento morti per aver temuto di morire con la loro specie se non avessero agito direttamente quindi ci penso io e invece Dio non voleva questo Dio non voleva che gli uomini ci pensassero loro ci penso io alla riproduzione del genere umano attraverso una modalità che non ti interessa sapere e noi non la possiamo conoscere perché Adamo ed Eva non l'hanno conosciuta manco loro perché prima che questa fosse posti in essere ci avevano già pensato loro quindi quel misterioso modo con cui sarebbero nati gli esseri umani di cui già i padri della chiesa parlavano non ci è dato di conoscerlo non lo sappiamo e forse lo sapremo sicuramente in paradiso ma qui a meno che il nostro signore non vada un pochino oltre ci dica guarda che sarebbe stato così chiuso soltanto delle metafore come una pianta baciata dal sole ma di fatto che sarebbe successo esattamente come la madonna quindi ci pensa allo spirito santo boh non lo sappiamo ci sarebbe stato un modo con cui che ne so dio si inventa un sistema per prendere il gamete dell'uomo fecondare la donna e far nascere questa creatura senza dolori del parto non lo sappiamo non lo sappiamo è inutile ci stiamo a scervellare troppo ma c'era sicuramente e anche su questi i padri avevano visto il giusto e anche su questi i padri avevano visto il giusto sono i padri della chiesa attenzione ricordiamo la prima parte di questo ciclo di catechesi per cui dice Maria Valtorta tutte cretinate e chi gli dà retta è questa qui questa è una mezza visionaria se qualcuno vuole vuole pensare questo qui per ora lo può pensare purtroppo perché non essendo ancora santa canonizzata dalla chiesa secondo me è molto grave pensarlo ma se uno volesse potrebbe anche farlo ma attenzione i padri della chiesa c'erano arrivati e di quelli non si può dire che erano pazzi furiosi da ricovero non si può non si può non per un cattolico almeno proseguo hanno commesso il primo atto contro l'amore con la superbia la disubbidienza la diffidenza il dubbio la ribellione la concupiscenza spirituale e per ultimo con la concupiscenza carnale anche qui quindi il peccato originale possiamo dire fu il primo atto sessuale sì e no nel senso che il punto di arrivo sì ma non il punto di partenza specifica alcuni credono che sia invece stato l'atto primo la concupiscenza carnale no Dio è ordine in tutte le cose leggo ancora un pochino più avanti dopo il peccato originale che cosa va a succedere? l'uomo privo di grazia non è che il più perfetto degli animali bellissima questa 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 espressione il più perfetto dagli animali l'uomo privo di grazia si era presto adattato al suo nuovo destino non più facile giocondo come il primo ma non privo di gioie umane che compensavano dei dolori umani e qui vediamo un pochettino questo discorso che molti fanno anche oggi la passione del senso si soddisfaceva nella carne compagna fusa attenzione non santamente come Dio voleva e come l'uomo innocente pieno di scienza aveva compreso nell'Eden a farsi una carne sola attenzione qui il Signore sta dicendo tante cose primo ci sarebbe stata una fusione santa senza passione del senso e questa era quella che Dio voleva e ci dice anche che l'uomo pieno di scienza l'aveva pure compresa ci picchia vedete ricordate quel padre della Chiesa se non ricordo male era Clemente Alessandrino che disse una cosa questo si trova sotto certi aspetti anche nell'opera del Don Bortoluzzi ma in un senso differente vi ricordate quando dissero che quando disse quel padre della Chiesa che mi sembra che fosse Clemente Alessandrino che il peccato originale era consistito nel fare quello prima del tempo stabilito da Dio c'è del vero in questa cosa alla luce di quello che stiamo dicendo cioè e di quello che abbiamo appena letto l'uomo sapeva che ci sarebbe stata un'unione santa tale da fare una carne sola ma non con la libidine non lo sappiamo come questa cosa qui e da questo si sarebbe moltiplicato il genere umano che cosa ha fatto ha anticipato i tempi cioè ha avuto fretta ma per avere fretta ha messo in atto la scienza avuta dal diavolo ce penso io se gli animali fanno questo vuol dire che lo possiamo fare pure noi capito la gioia del creare da soli o orgoglio persistente riprendo la citazione nuove creature illudendosi con ciò di essere simili a Dio creatore il domino sugli animali la soddisfazione dei raccolti bastare a se stessi senza aver ringraziato a nessuno queste erano gioie sensuali ma sempre gioie oh quanto oscurità da fumo di orgoglio e da carigine di concupiscenze sfrenate perdurò ostinata nei due proterbi dice vabbè ormai abbiamo fatto sta cosa qui intanto godiamoci l'uno con l'altro via a tutto spiano questo lo pensano tantissimi anche adesso nascono i figli godiamoci questi figli niente che non è a isto che nascono poi comunque gli animali possiamo dominarli possiamo coltivare la terra possiamo raccogliere piante tutto sommato non è che fa tanto schifo sta vita questo lo pensano tutti adesso quando è che è cominciato che l'uomo ha cominciato a riflettere? quando Caino ha ammazzato Abele spiega poi allora lì si è resi conto che l'innesco che avevano creato era terrificante il male si era scatenato poi vedremo la prossima volta il commento al peccato di Caino che è più grave perché aggiunge un'altra cosa alla già compromessa situazione umana no? attenzione per una infedeltà della donna salto un po' l'umano genere conobbe il peccato il dolore e la morte per una infedeltà della donna il concetto che il peccato originale è cominciato con Adamo e che è stata con Eva scusate che è stata Eva la seduttrice è stata Eva ad andare all'albero della conoscenza del bene e del male è stata Eva a ricevere la scienza satanica e a trasmetterla all'uomo che è affermato chiaramente nel testo biblico è assolutamente confermato dagli scritti di Maria Valtorta per un'infedeltà della donna riprendo la citazione l'umano genere conobbe il peccato il dolore e la morte per la fedeltà della donna con la D maiuscola cioè la Madonna l'umano genere ha ottenuto la rigenerazione alla grazia e perciò il perdono la gioia pura e la vita leggo ancora l'ultimo gli ultimi due brani siamo giusto in tempo allora qui il Signore sta spiegando in quest'ultima parte il rapporto che c'è tra il peccato originale degli angeli e il peccato originale degli uomini c'è una lunga sezione dove spiega il peccato di Lucifero l'abbiamo accennato anche noi a questo no? il disordine ormai era e con esso il peccato dopo il peccato degli angeli il dolore e la morte poterono insinuarsi sinuosamente fra le delizie dell'Eden turbare l'ordine l'armonia l'amore spargervi il tossico corrompere l'intelletto la volontà i sentimenti e gli istinti suscitare appetiti colpevoli distruggere innocenza e grazia addolorare il creatore fare delle creature prima soprannaturalmente naturalmente felici due infelici condannati a trarre faticosamente il pane dalla terra ormai maledetta e producente triboli e spine condannata la donna a partorire con dolore a vivere nel dolore e nella suggestione dell'uomo condannati entrambi a conoscere il dolore del figlio ucciso dal figlio e la vergogna di essere genitori di un fratricida ed infine conoscere il dolore del morire tutto questo millenario dolore viene da un disordine creato da un ribelle in cielo cioè lucifero e da un'acquiescenza al disordine proposto da esso ormai maledetto serpente nell'eden ai due primi abitatori sulla terra nemmai più attenzione la prima perfezione il primo amore la prima armonia l'ordine primo poterono risorgere dopo che volontariamente un angelo e due innocenti preferirono il male al bene supremo chi conosce gli iscritti di Luisa Piccarreta sa che qualche speranza di riavvicinarci all'eden perché questa è la promessa fatta dal Signore ce lo dà il regno della divina volontà di cui a Maria Valtorta come sempre fa Nostro Signore non era stata fatta parola perché Nostro Signore a ognuno dei Suoi eletti rivela qualche cosa in particolare non c'è nessuno che faccia assopiglia tutto e che se la trova tutte quante d'accordo? Tuttavia se la divina volontà non viene a regnare quello che vivevano Adamo ed Eva ce lo possiamo completamente dimenticare d'accordo? perché di per sé perduto personalmente non ritengo che possa tornare nel genere umano il progetto creativo che Dio aveva prima del peccato originale nonostante il regno della divina volontà personalmente se mi sbaglio sono ben felice quindi le molte cose che possono sono molte le cose che possono tornare d'accordo? Tutte no così come non credo che i cittadini del regno della divina volontà per chi la conosce non passeranno per la morte questo anche Gesù lo afferma i corpi saranno incorrotti ma la morte cioè ci sono delle linee che sono state varcate quello ormai in questa vita è così riprendo neppure il sacrificio di un Dio fattosi uomo per redimere valse a stabilire lo stato primitivo di ordine armonia amore e perfezione la grazia restaura ma la ferita resta la grazia soccorre ma i fomiti restano mentre prima sarebbe stato dolce e senza sforzo il pervenire al regno di Dio ora occorre usare violenza citazione del Vangelo il regno di Dio patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono che significa? questo significa usare violenza per conseguire il regno dei cieli violenza santa contro violenza maligna perché dal momento del peccato il bene e il male sono e si combattono fuori e dentro l'uomo Dio chiama Satana chiama Dio ispira Satana ispira Dio offre i suoi doni Satana i suoi e tra Dio e Satana sta l'uomo l'uomo nel quale sono due nature in lotta fra loro quella carnale in cui sono i fomiti della colpa quella spirituale in cui sono le voci della grazia e se Dio si volge alla parte che da lui assomiglianza perché il padre che ama la sua creatura e ad essa si vuole riunire dopo la prova terrena di essa Satana l'avversario l'odiatore di Dio e dell'uomo creatura di Dio all'una e all'altra parte si volge ed aizza la carnale mentre tenta di sedurre la spirituale per vincere e fare preda da quel leone ruggente che vuol divorare di cui parla l'apostolo Pietro ecco questo può bastare per quanto riguarda l'epistola ai romani come abbiamo visto niente di sostanzialmente nuovo sotto il sole direbbe un grande antico profeta biblico cioè il Coelet però usciamo ulteriormente diciamo così corroborati nelle informazioni che già avevamo acquisito ripeto la prossima volta andremo a rivedere l'ho già fatto in un altro ciclo di catechesi però questo evidentemente deve essere cioè nelle catechesi bibliche sull'antico testamento quando siamo arrivati a Genesi 6 l'abbiamo fatto c'è chiaramente una dissertazione ho fatto un riferimento per interpretare appunto quel passaggio molto molto misterioso sui figli di Dio i figli degli uomini su quei misteriosi ginec giganti nati da questi da questi accoppiamenti un po' particolari no? ecco lo vedremo la prossima volta chiaramente e dopo questo andremo a fare una tirata di conclusioni su tutto quello che emerge dagli scritti di Maria Valtorta ripeto lo step successivo sarà un confronto dopo una breve introduzione tra Maria Valtorta e Don Guido Bortoluzzi abbiamo già viste tante cose però le riprenderemo in forma sistematica poi ognuno certamente è libero di agire come meglio crede e di credere a chi ritiene più opportuno e forse le riprende in appendice magari una o due puntate potremmo prendere alcuni passaggi del libro di Teneramata che mostrandoci come è la gloria accidentale dei beati ci dà forse un'idea di come poteva essere l'amore umano prima della colpa d'origine e come purtroppo per riaverlo in quella forma così bella toccherà attendere il paradiso a chi ha seguito la diretta o vedrà questa carichezza in questi giorni faccio gli auguri di un santissimo triduo pasquale e di una santa pasqua noi ci vedremo la settimana prossima per una nuova puntata a Dio piacendo Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga